Bentornato nel mio canale, oggi vedremo insieme quali sono i migliori prodotti per la cura della barba. Analizzeremo step by step quelle che sono le differenze tra olio, balsamo, shampoo. Grazie al vostro piccolo sostegno è per me possibile continuare a realizzare questo tipo di contenuti. Se vi fa piacere troverete tutto quanto in descrizione su come sostenermi come cretore. Adesso andremo a vedere ad esempio la differenza tra un balsamo conditioner ed un balsamo invece fissante. Andiamolo a scoprire insieme. Ecco qui quelli che sono i prodotti da me selezionati e testati. Vi ho portato la linea ProRaso Wooden Spice in quanto la ritengo sinceramente come fragranza una delle mie preferite. L'ho sempre detto nei miei video, non mi smentirò mai. Una fragranza legnosa, speziata, che ricorda tantissimo davvero un profumo molto molto famoso. Una fragranza a mio avviso idonea nelle stagioni autunnali o nelle stagioni fredde. Adesso che ci stiamo addentrando verso la primavera, verso comunque sia la bella stagione, personalmente insomma la tengo un pochettino da parte, però è davvero una delle mie preferite. Passiamo poi alla mia linea di prodotti per la cura della barba, allo stregone della barba. Abbiamo shampoo, balsamo, conditioner ed olio. Poi vi spiegherò le differenze tra i vari balsamo. Abbiamo ad esempio il balsamo ProRaso Wooden Spice, un balsamo curativo, quindi idoneo per barbe corte, ma ci arriviamo tra poco. Proseguiamo con la linea King Sea, una linea creata da Gillette proprio per noi King, per noi barbutti, che amiamo mantenere e curare la nostra barba. E devo dire che questa fragranza molto fresca, molto così chiamiamola estiva, mi viene da dire, si sposa molto bene con il periodo attuale. Quindi è un'altra fragranza che mi piace davvero tantissimo. Proseguendo vi ho voluto portare ad esempio alcune tipologie di oli ed anche balsamo provenienti da vari paesi del mondo. Abbiamo ad esempio qui un olio proveniente dalle Stati Uniti di Death Grip, un olio davvero molto molto valido, secondo me, a mio avviso, uno degli oli naturali più riusciti che io abbia mai testato. Un olio dalla fragranza, in questo caso abbiamo la linea Barber Choice, una fragranza contenente vaniglia, albicocca e jojoba, praticamente un olio molto nutriente, molto setificante e la cosa bella comunque si è che non unge. Qui dietro abbiamo sempre la linea Death Grip, compreso il balsamo cerato e la cera per baffi. Arriveremo anche lì dopo a fare chiarezza su questo punto. Poi abbiamo la linea di Bandido, Bandido Cosmetic, made in Turchia, saluto il mio amico Jalal, e qui abbiamo l'olio e il balsamo, qui abbiamo un balsamo molto molto intenso, molto strong, dà una texture davvero molto interessante. Proseguiamo quindi con il Regno Unito, con Morgan's Pomade, abbiamo qui un olio davvero molto interessante, anche questo, e una cera per baffi molto molto malleabile, quindi ci sono davvero tantissime differenze poi anche tra una cera per baffi e l'altra. Se volete saperlo lasciatemi un commento, perché è davvero un argomento da approfondire, cioè è un argomento nell'argomento, come un po' tutte le cose. E chiudiamo con Wikicon. Wikicon produce, insomma, spazzole elettriche. Wikicon è cinese, un brand cinese, ma lavora molto molto bene. Mi piacciono molto i suoi prodotti, soprattutto per quanto riguarda gli accessori, quindi le spazzole, spazzole come questa qui ad esempio in silicone. Trovo utilissima davvero durante il lavaggio della barba, e il massaggio anche proprio dell'acute del viso è molto molto rilassante. Davvero vale la pena di provarli, poi il prezzo è molto contenuto, quindi... E abbiamo, stavo per dimenticarlo, il balsamo cerato. Anche qui un balsamo da una texture un po' particolare. Partiamo subito con le differenze. Meglio l'olio o il balsamo? Scopriamolo insieme. Nelle prime settimane di crescita della barba, quindi all'incirca le prime due settimane per intenderci, quando la barba è molto corta, personalmente suggerisco di non applicare proprio quasi per nulla l'olio da barba. Questo perché? Perché l'olio da barba va ad ingrassare ulteriormente il bulbo pilifero, il quale sta svolgendo la sua azione di crescita, di sviluppo, in sostanza il bulbo pilifero secerne sebo. Questo sebo successivamente va a ricoprire il pelo. Se il pelo è corto, ovviamente non c'è bisogno di alcuna ulteriore integrazione di oli in più. Abbiamo già il nostro olio naturale, che è il sebo. Di conseguenza, però, il sebo cosa fa? Quando fuoriesce, prude. Per contrastare questo prurito, è molto molto meglio applicare un balsamo, che sia un balsamo, però non ovviamente un balsamo fissante, andremo più avanti. In questo caso, quindi una barba corta, davvero di poche settimane, è bene applicare un balsamo che sia curativo, quindi un balsamo pura barba, un balsamo addirittura conditioner, condizionante, che rispetti per il pH della pelle. In sostanza, tra questa gamma che ho qui davanti a me, vi consiglio, se siete nelle prime settimane di crescita della barba, un balsamo curativo, cura barba, come quello di proraso, ad esempio, il quale davvero riduce molto quel fastidioso prurito che si ha nelle prime settimane, oppure anche un balsamo condizionante, come quello della mia linea. È molto indicato sia per barbe lunghe, ma soprattutto per barbe nelle prime settimane di crescita. Proprio per il suo potere lenitivo, va davvero a rinfrescare la pelle tantissimo, vi sentirete praticamente come se vi foste appena rasati, e non è una cosa da poco, per chi soprattutto soffre di dermatite, come sottoscritto. Quindi ho voluto fortemente dei prodotti che rispecchiassero anche quello che sono io, quindi molto introspettivi, e di conseguenza portarveli a voi. Proseguendo, troviamo che il balsamo King Sigillette, Il balsamo King Sigillette è molto cremoso, è un balsamo quasi condizionante, la cosa buona è che rende la barba morbida, ma su barba corta di poche settimane non ha alcun potere, diciamo, rinfrescante, tonificante sulla pelle, quindi sinceramente non è un balsamo che consiglio per le prime settimane di barba. Ricapitolando, in breve, prime settimane di barba prurito, è la cosa che purtroppo incontreremo tutti, o incontriamo tutti, o l'abbiamo già incontrata, e di conseguenza munirsi di pazienza, attenzione soprattutto per la cura della pelle. È davvero fondamentale questo spazio. Se vogliamo avere una barba sana, una barba lunga, una barba che cresca, che si sviluppi in modo sano, dobbiamo considerare il fattore di avere una pelle sana. Su una barba di un mese, anche qui ci sono vari dibattiti, diciamo così. La cosa che personalmente consiglio su base mia, quindi come tutte le cose ve le consiglio su mia esperienza diretta personale, se avete una barba folta, come la mia in questo caso, o anche di più, potete già prendere in considerazione, anzi dovete già prendere in considerazione di utilizzare l'olio per barba. Olio per barba, come vedete, ce ne sono tante tipologie, tante qualità, tantissime fragranze, ogni produttore produce giustamente le proprie fragranze, ma ci sono anche oli con poca fragranza o nulla, gli oli unshanted, per così dire, quindi senza fragranza, oppure oli, come nel caso della mia linea, che hanno solamente la fragranza contenuta nei propri principi attivi. Troveremo una fragranza mentolata, una fragranza fresca di eucalipto. Mentre se andiamo su un'altra tipologia di olio, come ad esempio un olio molto davvero profumato, quindi un olio che lascia anche, tra virgolette, la scia, dovremo andare sulla linea bandido, su una linea praticamente molto appariscente, sia nel packaging, che sia anche proprio nel prodotto interno. Per rendervi l'idea, ProRaso Voodle Spice, ed è una fragranza molto corposa, una fragranza che avvolge, lascia, tra virgolette, un pochettino di scia, ma non più di tanto. King Sigillette, invece, ripropone la medesima fragranza che propone ovviamente in tutti i suoi prodotti, quindi shampoo, olio, balsamo, e qui abbiamo anche un acceleratore di crescita per la barba. Se volete che approfondisca anche l'argomento degli acceleratori di crescita della barba, lasciatemi un commento qui sotto e ve lo proporrò nei prossimi contenuti. Stavo dicendo, la fragranza King Sigillette è la medesima, quindi ne abbiamo solo una, e poi abbiamo tutte quante le altre tipologie di oli. Ad esempio questo qui, quest'olio di Morgan Spomade, è la loro linea Luxury, una linea deluxe, anche nel formato molto bello, molto capiente. Abbiamo anche delle tonalità di bergamotto, quindi una tonalità fresca di olio, e come già accennato e come potete aver capito, con l'olio c'è da sbizzarrirsi, davvero sia nelle fragranze sia per le tipologie. La cosa che consiglio maggiormente è di scegliere un olio per barba che non impacchi, quindi un olio che non lasci le mani molto appiccicose, e non lasci soprattutto la barba e la pelle del viso molto appiccicosa, molto carica di oli di grassi, in quanto proprio il nostro sebo secerne grasso in maniera naturale, quindi di conseguenza non dobbiamo caricarlo troppo. Su una barba di un mese discretamente folta, bastano anche 5-7 gocce di olio. Una barba di un mese però poco folta, ancora l'olio sinceramente non lo applicherei, oppure applicherei poche gocce. Sta a voi comunque sia vedere e capire che tipologia di pelle avete, che tipologia di barba avete, e anche quello che vi piace di più applicare come fragranza, è una cosa molto soggettiva. Non ho dimenticato gli shampoo, gli shampoo li ho tenuti un attimo in stand by, anche qui la situazione è abbastanza soggettiva, abbiamo shampoo dalle varie fragranze. La cosa importante è che lo shampoo che utilizziamo per la barba non vada ad irritare la pelle. Questo perché? Perché sì, ci sono una marea di shampoo in commercio, tutti sono testati dermatologicamente, tutti sono tarati per un pH del viso rispetto ad altre tipologie di shampoo, quindi ricordiamolo sempre, per la barba utilizzare shampoo per barba, non per capelli, a meno che non sia la barba lunga un metro, e allora in quel caso magari potrebbe anche dar bene uno shampoo per capelli, ma è un caso proprio estremo, un caso a parte, qui stiamo parlando di barbe nella norma, barbe nella media, anche come lunghezza. La scelta dello shampoo è molto soggettiva, consiglio di provarne varie tipologie, e di scegliere quello con cui ci si trova poi effettivamente meglio. Barba di due mesi circa, come la mia, ecco qui bisogna già prendere in considerazione l'utilizzo di olio quotidianamente, e soprattutto anche l'utilizzo di una spazzola in legno con setole delicate, con setole di cinghiale, con setole cinghiale misto nylon, insomma, ognuno poi trova quella che ritiene opportuno. Personalmente consiglio però di scegliere un formato idoneo, quindi una spazzola non troppo grande, e non troppo piccola. Ad esempio, questa spazzola qui è di circa 11 cm, e possiamo tranquillamente tenerla, impugnarla in mano, e andare a pettinare, vedete, in modo molto veloce la nostra barba, e anche molto pratica da portare, ad esempio, in un taschino come questo qui. Abbiamo anche pettini, pettini per baffi, pettini per barba, questo qui è in metallo, ed è di Death Grip, molto carino come tipologia di, anche di regalo volendo, perché può essere anche adattato, idoneo come portachiavi, avendo un buco, proprio per inserire l'anello portachiavi, e poi abbiamo quello molto in stile vintage, di Morgan's Pomade, come potete vedere, a forma di baffo, proprio classico, vedete, è fantastico. Secondo me è molto carino, anche come idea regalo, e perché no, ci sta, ci sta tutto, vedete, è in plastica, però molto funzionale, anche portatile, davvero, molto simpatico anche da vedere, quindi, un'idea molto molto carina, vintage, mi piace. Barba da tre mesi in su, oltre che vedere qual è lo stile più idoneo, alla nostra tipologia di volto, se volete il video sullo stile di barba, idoneo al vostro volto, fatemelo sapere qui, nei commenti, da tre a sei mesi, si inizia a delineare, quello che è il percorso, che vogliamo fare con la nostra barba, inizieremo a capire un pochettino, cosa vogliamo fare da grandi, passatemi il termine, di conseguenza, per una barba cresciuta, da tre a sei mesi, quindi una barba che inizia ad essere davvero importante, al di là di quanto possa essere folta la nostra barba, iniziamo ad avere già un volume più importante, quindi una lunghezza maggiore, di conseguenza cambia completamente la nostra routine, quindi la nostra cura della barba, non deve essere comunque sia stravolta, se troviamo dei prodotti fidati, quindi di uno shampoo con cui ci troviamo bene, dobbiamo continuare ad utilizzare quello o quelli, cambia l'aggiunta di prodotti, quindi più la barba diventa lunga, più la barba necessita di cure, di mantenimento, una barba già importante, quindi una barba dai 5 ai 10 centimetri, necessita di due tipologie di balsamo differenti, che adesso andremo a vedere insieme. Di cosa sto parlando? Sto parlando di balsami condizionanti, come possono essere il balsamo della mia linea, quindi, oppure il balsamo Kinsey Gillette, ad esempio, anch'esso un balsamo conditioner di doppia fase, così come il mio, utilizzabile sia senza risciacquo, ma consiglio sempre, essendo balsami comunque sia cremosi, che tendono a nutrire tantissimo il pelo, di risciacquarli una volta terminato l'utilizzo, proprio per liberare la cuticola pilifera. Il pelo della barba deve rimanere pulito, proprio perché, ricordiamoci sempre, il mantra, che il nostro sebo è autoprodotto dal bulbo, quindi il bulbo emana sempre, costantemente, ogni giorno il proprio sebo, e ingrassare troppo la barba non va bene. Quindi, di conseguenza, risciacquare sempre bene, dopo l'utilizzo. Bene, voi direte, ho fatto lo shampoo, ho messo il balsamo, sono già a posto, devo mettere l'olio? No, no, non è proprio così. Arrivati a questo punto della nostra routine, quindi, dopo aver risciacquato il balsamo nutriente per il nostro pelo, dobbiamo necessariamente fissarlo, quindi avremo una barba spettinata, perché ovviamente più la barba si allunga e più tende a spettinarsi. Abbiamo due tipologie di scelta per terminare la nostra routine. La scelta dell'olio, quella sta a noi, è molto personale, un olio che ci piace, che ci rende la barba lucida e bella anche armoniosa, oppure possiamo andare a dare veramente uno stile, un'impronta unica alla nostra barba, utilizzando un balsamo cerato. Balsami cerati ne ho qui qualcuno da farvi vedere, da non confondere con la cera per baffi, sono due cose simili ma differenti tra loro, dobbiamo vedere un attimo quello che si addice a noi. eventualmente ci sono delle cere, dei balsami cerati che vanno bene anche per i baffi. In questo caso ad esempio Wikicon lo scrive proprio, beard and mustache, quindi questo balsamo va benissimo sia per i baffi che la barba. Qui invece abbiamo Bandido che scrive proprio beard balbi, abbiamo Sapiens addirittura, l'azienda francese che lo chiama burro per barba, di fatti è un balsamo molto cremoso, molto burroso, ma al contempo anche fissativo. Ricorda un pochettino quello di Death Grip, il Night Owl, anche lui è un balsamo un pochettino cremoso, burroso, ma compatto. Questi due balsami li consiglio, nel caso si voglia fissare lo stile, ma non in maniera estrema, se vogliamo comunque sia lasciare un pizzico di naturalezza alla nostra barba. Nel caso invece volessimo passare uno stile più strong, un pochettino più audace, passatemi il termine, quindi avessimo la necessità anche di scolpire la nostra barba, abbiamo una barba molto molto lunga, ma la vogliamo comunque sia scolpire anche magari in maniera stravagante, consiglio queste due tipologie di balsamo. Queste due tipologie di balsamo sono molto molto più performanti, molto più strong rispetto alle altre appena citate, e servono ovviamente per chi ha barbe molto spesse, molto folte e anche molto lunghe, per chi vuole donare comunque sia anche un certo livello anche di eccentricità alla barba. Per una barba da sei mesi in su, sostanzialmente non cambia nulla, dovremmo sempre continuare ad applicare almeno due o tre volte a settimana un balsamo condizionante, come vi ho già citato, e di conseguenza terminare la routine come preferiamo. Cambiano ovviamente le quantità di olio da applicare, in base a che cosa? In base alla lunghezza della propria barba, in base alla tipologia della propria barba, quindi più la barba è folta, e più ovviamente necessita di nutrimento, in quanto il bulbo pilifero non riesce più a secernere quella quantità di sebo necessaria a ricoprire tutto l'arco del pelo. Per intenderci, su una barba di pochi mesi, il sebo viene già distribuito in maniera omogenea anche solamente al contatto con le dita, allo sfregamento. Vi vedo che stavate tutti quanti sfregando la vostra barba proprio per provare questa ebrezza, diciamo così, a parte degli scherzi, basta anche semplicemente sfregare le dita sulla barba anche durante il lavaggio ad esempio, e vedrete già, sentirete sulla punta delle dita una specie di olio, di unto, di grasso. Ecco, quello è il nostro sebo naturale. Logicamente, più la barba si allunga e più questo sebo non riesce a raggiungere le estremità. Anche per questo problema vengono le doppie punte. Io ne so qualcosa, in quanto quando avevo la barba lunga soffrivo davvero tantissimo di doppie punte, necessariamente dovevo nutrirla ancora maggiormente, quindi per questo vi parlo sempre, per la mia esperienza personale, avendo avuto barba corta, una barba lunga, e una barba di media lunghezza. La routine perfetta quando si ha la barba lunga è il lavaggio quotidiano, possibilmente, l'applicazione di un balsamo condizionante almeno due o tre volte a settimana, il risciacquo di questo balsamo condizionante, lo ricordo sempre, e successivamente l'applicazione di olio quanto basta, come nelle ricette che si trovano di cucina. Ricordatevi sempre che ci sono tantissime tipologie di prodotti, dovete sempre trovare i prodotti idoni alla vostra tipologia di barba e di pelle. Questo è molto importante, ci tengo davvero tantissimo a sottolineare questo aspetto, in quanto non siamo tutti uguali, di conseguenza alcuni prodotti che io reputo indispensabili per me stesso, per qualcuno di voi magari non potranno esserlo. Puoi scegliere la linea di prodotti che fa per voi. Dallo stregone della barba è tutto, al prossimo video, un barba abbraccio. Grazie a tutti.